Eccoli gli agricoltori delle associazioni di categoria Confagricoltura e CIA di Alessandria entrare, come promesso, in silenzio, nella sede del settore caccia della provincia, dove stamane era convocato un tavolo tecnico con i rappresentanti delle associazioni venatorie e i commissari degli ATC, gli ambiti territoriali di caccia. Qui si andava a discutere, cosa che avviene peraltro con una certa ciclicità, del problema della fauna selvatica. Ma, come si suol dire, il presidio, seppur silenzioso, del mondo agricolo, non era invitato all'incontro e, anzi, i referenti della caccia non hanno neppure incrociato coloro che con gli ungulati ci hanno comunque a che fare, anche se da un altro punto di vista. Sala vuota e visibile stizza sui volti degli imprenditori agricoli e dei loro vertici di categoria. Solo il presidente della provincia, Gianfranco Baldi, ha aspettato i manifestanti e li ha ascoltati, spiegando loro che è necessario portare avanti iniziative concordate per arrivare ad attuare un piano che tuteli la risorsa ungulati, ma che sia in grado anche di gestirla. Tra le voci dei contestatori, un imprenditore agricolo di Asti, che, sventolando il regolamento attuato nella sua provincia, ha dichiarato che dalle sue parti sia possibile autodifendersi dalla calata degli ungulati. Alla fine solo una delegazione dei referenti di Confagricoltura e di CIA ha potuto partecipare al tavolo tecnico convocato questa mattina. Verranno definiti alcuni punti e verrà al più presto convocato un incontro pubblico per discutere di questa delicata e annosa questione. Il presidente della provincia d'Alessandria, Gianfranco Baldi, che si è presentato questa mattina all'incontro, ha fatto da garante per accelerare i tempi.